Le panchine, i cancelletti, i cancelli di Sant'Andrea, insomma sono delle chiusure, sono delle limitazioni. Credo che sia opportuno che l'accoglienza di questa città, che è sempre stata una delle sue caratteristiche, si manifesti anche nell'eliminazione di alcune barriere. Via i cancelli e i giardini di Sant'Andrea, così da Cassugana, la rimozione entra l'estate. Io credo che prima dell'estate la cosa potrebbe funzionare, ma è una mia ipotesi. Una vergogna ne va di mezzo alla sicurezza della città, considerato il degrado sociale presente in quel parco, così i gentilini nell'apprendere la notizia. Io sai cosa farei? Chiamerei quegli spandiletame che erano alle quote latte e dipingerei questo comune con quelli quame. Questi stanno distruggendo la città di Trevio. Mercoledì 30 aprile la mozione all'ordine del giorno nel corso del prossimo Consiglio Comunale. Verrà votata e verranno introdotti nuovi elementi all'interno del regolamento comunale, elementi che sono di normale civiltà, c'erano dei divieti veramente strani.